Ciao a tutti, oggi preparo con voi pasta con crema di ceci e pancetta croccante, una bontà, iniziamo subito! Per prima cosa dobbiamo mettere a cuocere i ceci per 45 minuti, i ceci secchi li ho tenuti in ammollo in acqua fredda per 12 ore, se utilizzate i ceci precotti non dovete farli bollire, vi consiglio di utilizzare una pentola alta perché nella stessa acqua più tardi cuoceremo la pasta, quando mancheranno 15 minuti alla fine della cottura dei ceci in una padella capiente mettiamo dell'olio extravergine d'oliva e mettiamo ad abbrustolire la pancetta affumicata, quando la pancetta sarà a buon punto sfumiamo con il vino bianco quando la pancetta sarà abbrustolita spegniamo la fiamma e la trasferiamo con la schiumarola in una ciotolina di vetro, tolta tutta la pancetta nell'olio e nel grasso già presenti in padella mettiamo a dorare uno spicchietto d'aglio e aggiungiamo anche un rametto di rosmarino quando l'aglio si sarà dorato e i ceci saranno cotti li trasferiamo tenendo a fiamma bassa sotto la padella con l'aglio e il rosmarino in padella una volta trasferiti tutti li facciamo insaporire in padella per qualche minuto togliamo l'aglio e il rosmarino aggiungiamo un mestolo di acqua e facciamo cuocere a fiamma vivace per 3-4 minuti ora saliamo l'acqua e mettiamo a cuocere le linguine ora spegniamo momentaneamente la fiamma e trasferiamo i ceci nel bicchiere del frullatore in questo caso qualcuno lo lasciamo intero e qui adesso mettiamo due mestoli di acqua di cottura e andiamo a frullare visto che facciamo le linguine la crema deve venire liquida così un minuto prima della fine della cottura della pasta riaccendiamo sotto la padella e trasferiamo la pasta in padella una volta messa tutta mescoliamo aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e facciamo cuocere per qualche altro minuto quando la pasta sarà al dente lasciando sempre a fiamma molto molto bassa aggiungiamo una buona parte della crema di ceci non mettetela tutta ma regolatevi messa la crema di ceci facciamo cuocere per qualche istante e visto che è bella liquida la facciamo asciugare un po' perfetto adesso spengo la fiamma vado a mettere la pancetta per 30 secondi nel microonde in modo da farla tornare croccante e impiatto questa pasta è squisita fatela e fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate se il video vi è piaciuto lasciate un bel like condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi vi auguro buon appetito grazie a tutti